Sono stati poco meno di 117.000 emigranti giunti sulle coste italiane negli ultimi 12 mesi, di cui circa 63.000 soccorsi dalle navi che prendono parte all'operazione Mare Nostrum. Secondo i dadi diffusi dal Viminale, sono stati 539 gli scafisti arrestati, mentre oltre 35.000 le domande di protezione esaminate. Al 31 luglio scorso le presenze nelle strutture temporanee ammontavano a 53.243 unità. Per quanto riguarda gli immigrati regolari, gli stranieri soggiornanti in Italia sono attualmente oltre 3.900.000. Marocco, Albania e Cina le nazionalità di provenienza più rappresentate.